Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Mary Games e oggi sono qui su Roblox Adopt Me perché ho deciso di mostrarvi alcuni dei posti segreti di Adopt Me diciamo non tanto segreti perché alcuni li conoscono, alcuni no Allora, il primo posto segreto si trova qui alla zelateria Allora, per andarci dobbiamo prendere un pet, fly oppure ride e prendiamo un passeggino io per esempio prendo questo però naturalmente uno qualsiasi, ragazzi quindi andiamo qui facciamo fly e quindi questo è il primo posto segreto il secondo posto segreto si trova in pizzeria bene, bisogna essere piccolini e si va qui sopra vedete, bisogna fare attenzione perché se no si esce tramite la porta quindi rientriamo appena entriamo dobbiamo girare la visuale verso sopra e vedrete una finestrella, infatti così e siamo usciti fuori il terzo posto segreto si trova all'anniversario come sempre ci serve il passeggino, il pet, fly oppure ride e qui in questo caso dobbiamo essere sempre grandi come quasi tutte le volte però in pizzeria per esempio per il secondo posto segreto dovevamo essere piccolini per gli altri sempre grandi e qui quindi questo è il terzo posto segreto il quarto posto segreto si trova a scuola precisamente nella stanza dei pet dobbiamo andare sempre naturalmente con il passeggino il pet fly oppure ride vicino a questa parete e fare fly e questa diciamo che è una stanza segreta il quinto posto segreto si trova all'ospedale nella stanza della dottoressa Yurt vicino a questa parete bisogna fare sempre fly oppure ride quindi il vostro pet e qui c'è una stanza segreta spero che il video vi sia piaciuto e se è così lasciatemi un piaccio iscrivetevi al canale ciao